Ciao a tutti amici TecAndroid, oggi andremo a scoprire insieme un'applicazione per molti aspetti valida, peraltro ancora un po' acerba, che ci consente di nascondere la maggior parte dei file presenti sul nostro dispositivo, con tanto di possibilità di eseguire anche un backup, perché molte applicazioni si consentono confusionariamente di nascondere dati e quant'altro, però poi nel momento in cui si disinstalla l'app o c'è un problema o bisogna cambiare terminale, ecco che si perdono i contenuti. Questa applicazione è particolare, si chiama Edit Pro, e consente praticamente anche di eseguire un backup, questa è una feature di non poco valore. A Edit Pro si può scaricare serenamente da Google Play Store, poi vi metto sotto anche il link in modo che possiate farlo semplicemente, e ha un'interfaccia innanzitutto di presentazione molto particolare, perché trovare l'applicazione qui non è proprio facile, perché è fatta in modo da nascondersi fra le altre app. Certo, non vi fate scoprire dalla fidanzata o dal fidanzato, perché una volta che poi viene identificata l'app è un po' complicato il discorso del poter nascondere l'applicazione, anche se poi vedremo, c'è addirittura un metodo per non farla proprio comparire nell'app Drawer. Ad ogni modo, per questa volta vi mostro io dov'è nascosto l'applicativo. L'applicativo è questo qui con la nota musicale, Audio Manager. Ok, una volta aperta l'app vi troverete davanti un vero e proprio manager dell'audio del dispositivo, quindi assolutamente nulla di sospetto. Per poter accedere all'applicativo che nasconde i nostri file dovrete fare una pressione continuata qui e vi uscirà il tassirino numerico che ha bisogno di un PIN, io in questo caso ve lo dico anche, tanto poi lo cambio, è 1981. Solo in questo momento avrete accesso effettivamente ad Edit Pro, ovvero al vostro gestore di file nascosti. Come vedete le possibilità sono parecchie, vi faccio dare un'occhiata direttamente al menu, possibilità di criptare immagini, video, file musicali, applicativi, questo è molto interessante, bloccare alcune applicazioni, il file manager, nascondere messaggi, questo assolutamente lo sconsiglio perché ho provato e riprovato facendo dei tentativi per nascondere i messaggi ma non mi è stato purtroppo possibile perché arriva la doppia notifica, sia quella di Edit Pro sia quella dell'app ufficiale. È da migliorare. Swap, che in realtà è una specie di messenger con messaggi criptati, che praticamente consentirebbe di chattare in anonimato con utenti da tutto il mondo, io non l'ho praticamente provato perché comunque non mi sembra tanto utile ai fini della prova che stiamo facendo. Perdonatemi, purtroppo c'è il flash, cerco di... ok, altrimenti è troppo buio. Dopodiché c'è il file manager, scusatemi, le note, permette di creare delle note nascoste, il browser web, encryption per i documenti. Vi faccio vedere un attimo come funziona provando le feature principali, ovvero quelle per nascondere immagini e video, per nascondere le applicazioni e magari anche per le note. Il file manager è un comunissimo file manager. I messaggi, io non mi sento... non voglio sentirmi responsabile di eventuali messaggi diamanti che arrivano con la notifica doppia, quindi non ve lo mostro perché ancora non funziona bene, toccherà lavorarci su quando funzionerà, sarà la prima a farvelo sapere. E poi c'è appunto swap, il browser per navigare senza che cookie vengano rilasciati ai siti web, quindi senza possibilità di dare le vostre informazioni personali, senza la possibilità di salvare la cronologia, quindi navigare in totale anonimato. Allora, prendiamo ad esempio le immagini. Poniamo il caso che io, per esempio, abbia una dignità e voglia nascondere le mie foto con le pantofoline invernali. Creo un album, dal tasto più in alto a destra, creo una cartella, un album che d'insivoglia, è stata creata questa cartella dove io posso andare con il tastino più qui ad aggiungere. O direttamente foto dalla fotocamera o dalla galleria. Ad esempio, io qui in galleria ho le mie pantofoline, poniamo il caso che abbia una dignità e voglia nasconderle, nascondi file selezionati dove, in prova. Ok, perfetto. Ora, il file risulta assolutamente nascosto. Infatti, se io torno indietro e vado in galleria, non c'è assolutamente traccia, né in Facebook, né tantomeno tra gli screenshot, chiaramente non potrebbero esserci le mie pantofoline, né nell'album, perché c'era solo una fotografia in quel momento, non c'è assolutamente traccia delle mie fotografie. Se volessi riportarla indietro, mi basterebbe riandare sul mio Bravo Hide It Pro, metto la password, Pictures, ci clicco un attimo sopra, qui c'è la mia fotografia, ok, ci clicco forte sopra, mostra, mi chiede effettivamente il programma, dove io voglio andare a mettere, è una cartella prova, però non come fare nascosto, no, vado sul gestore, perdonatemi, scendo fino a DCIM, camera, perché la voglio mettere qui, select Folger, mostra, ok, ora non è più nascosta, anche se purtroppo potrebbe rimanere di copertina, fra virgolette, all'album nascosto che avete, vado in galleria, ed ecco che la mia foto con le pantofoline, poco gradite e più, però molto molto calde, è ricomparsa. Stesso procedimento dovrete seguire eventualmente se volete nascondere dei, ad esempio dei video, il procedimento è assolutamente identico, uguale per la musica, anche qui potete serenamente andare, qui c'è il vostro album, cliccate su più, scegliete da dove poter prendere i file audio che volete nascondere, scusatemi ho aperto la videocamera, devo aprire la gallery, non credo però di avere file audio, perché ok, qualcosina ce l'avevo, scegliete il file audio che volete nascondere, e questo viene automaticamente nascosto, quindi non cambia nulla, stessa procedura. Molto interessante è anche Hide App, che consente, come dicevamo, di nascondere applicativi, qui mi chiede subito, hai permessi di root, altrimenti non è possibile farlo. Noi abbiamo i permessi di root, quindi diamo l'ok, perfetto, non ho nulla di nascosto, vado in tutte le app, per vedere che applicazioni ho, cerco di capire se qualcosa ha bisogno di essere insomma nascosta, io prenderò ad esempio l'app InSegreto, non so se conoscete il sito web InSegreto, per passare il tempo quando c'è fila alla posta, è divertente, soprattutto per i commentatori, complimenti ai commentatori. seleziono InSegreto come app, se è sicura di volerla nascondere, certo, la sta nascondendo, il super user mi chiede se voglio dare i permessi di root a questa applicazione, noi ne lo diamo per sempre, perché comunque ogni qualvolta vorremmo gestire un'app nascosta ce lo chiederà, quindi noi consentiamo, diamo il nostro ok, l'app è nascosta, infatti se adesso torniamo indietro e andiamo nell'app drawer, vedete l'app InSegreto non c'è, nei momenti in cui la vogliamo puoi andare a richiamare, sempre il nostro codice, ci piace? sì, poi votiamo, Hide App, non lo mostriamo più, ho i permessi di root, InSegreto è qui, e con un solo tocco la possiamo avviare, disinstallare, rendere invisibile, InSegreto funziona perfettamente, l'abbiamo potuta avviare senza alcun problema. forse l'ho chiusa per sbaglio, riproviamo, non vorrei abbia crashato, ok, no, funziona, ecco, non so per quale motivo crashi, perché ho fatto delle prove prima e non sta crashando, riproviamo una terza volta, vediamo se dopo un tot di secondi crasha, l'accesso al super user è stato ok, probabilmente sarà un problema di versione, questo è il bello della diretta, perché non ho mai avuto problemi ad utilizzarla, in questo momento sta crashando, non so per quale motivo, probabilmente c'è qualche conflitto con la mia versione Android, che è la 5.1, io a questo punto vi consiglio di provare e vedere con voi cosa succede, magari fatemi sapere fra i commenti, perché se magari è un problema potremmo inviare serenamente un'email allo sviluppatore. dicevamo per quanto riguarda il resto delle feature, abbiamo detto che c'è IDAP, poi c'è il file manager, c'è anche LOCKUP, che praticamente blocca qualsiasi applicazione con una schermata di errore, questo è un plugin che io non ho onestamente mai scaricato, e dovrebbe consentire di lasciare l'app praticamente così come nell'app draw, però nel momento in cui qualcuno la va a aprire, dando una finta schermata di errore, la blocca e non vi fa avere accesso, quindi è un metodo alternativo ad IDAP. Messages lo salto perché non voglio responsabilità in caso di doppie notifiche, Browser, l'abbiamo detto, consente di navigare praticamente senza concedere cookie e senza salvataggio di cronologie, Encryption serve a criptare i documenti e Notes, infine, serve a creare praticamente delle note che poi andranno a essere salvate nel vostro archivio di ID.it Pro, applicativo ricordo che è totalmente gratuito. se il discorso audio manager non vi bastasse nell'app drawer perché magari la fidanzata vi ha beccato, avete anche un'altra possibilità, addirittura andando nelle impostazioni, impostazioni avanzate, qui, potete praticamente cambiare il modo di mascherare ecco l'applicativo, quindi cliccate qui, scendete fino a No Icon, vi chiederà la prima volta di scaricare un plugin disponibile sul Play Store, io l'ho già scaricato, cliccate su Activate e poi su Hide Up Icon. Cosa succederà? Praticamente nel momento in cui avete fatto questo tipo di operazione, salvate, ok, avete fatto questo tipo scusatemi di impostazione, avete attivata, chiudete tutto quanto, ecco che innanzitutto ha crashato la mia channel ma non fa niente, era sparito la ProDover, tornerà indietro, ecco che praticamente Audio Manager io ce l'ho in ordine alfabetico non c'è più, quindi nessuno potrà sapere dell'esistenza di questa app, voi direte va bene noi come la usiamo? Per usarla non c'è nessun problema, basta far finta di eseguire una qualsiasi telefonata col doppio cancelletto, la password che avete scelto per accedere al vostro programma, invio, ecco che si riapre la vostra applicazione, totale privacy, nessuno sa che esiste, nessuno sa come si può avere accesso, certo poi dipende da voi non vi fate scoprire insomma e davvero avete la possibilità di criptare tutto per quanto riguarda il backup all'inizio vi chiederà come volete organizzarvi per poter fare il, per poter salvare il backup dei vostri dati la preferita ovviamente è Drive ogni qualvolta voi avrete accesso all'applicativo si occuperà lui serenamente di fare un backup delle informazioni che voi andrete a salvare nel momento in cui poi vorrete dare un'occhiata al vostro backup basterà andare in impostazioni backup option browse backup vi fa vedere tutte le fotografie che ha salvato sul server ovviamente Drive come vi dicevo è richiesto per questo tipo di backup è un backup cloud in modo che voi davvero non rischiate di perdere assolutamente nulla poi ovviamente potete voi scegliere che tipo di backup fare cosa non fare come cosa non salvare insomma dei dati che andrete a criptare disattivare il backup automatico io l'ho lasciato così perché assolutamente non mi dà alcun problema e poi se non avete in caso il backup automatico da questo tastino qui start backup potrete attivare un backup sul momento applicativo quindi molto molto interessante da migliorare sicuramente per certi aspetti avete visto che l'applicazione non ha mai crashato adesso ha crashato bello della diretta vi ho detto che i messaggi i messaggi danno anche la possibilità praticamente di bloccare le chiamate in entrate in uscita verso un determinato numero non ve lo faccio vedere proprio perché è un punto assolutamente da migliorare per il resto foto video musica funzionano senza problemi le note anche file manager è un comunissimo file manager per quanto riguarda dicevamo swap non lo uso perché è inutile encryption è per i documenti e browser per la navigazione in totale anonimato bene amici Tecnandroid io vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento al prossimo tutorial ciao a tutti